Sarebbe Alessandro San Marco, 20 anni, l'autore dell'omicidio di Natale Caravello, 47, pregiudicato. Il delitto che ieri sera si è consumato a Brancaccio, in Via Matera, potrebbe avere avuto origine da un diniego della vittima che non avrebbe consentito la frequentazione tra il presunto assassino e la figlia. Il giovane si è presentato alla caserma dei Carabinieri, sede del comando provinciale di Palermo, accompagnato dal suo avvocato di fiducia, dichiarando di essere l'autore dell'omicidio, che a suo dire non avrebbe comunque voluto commettere. «Mi sono consumato», avrebbe più volte ripetuto Alessandro San Marco davanti ai militari dell'arma, che successivamente lo hanno accompagnato alla squadra mobile per un ulteriore interrogatorio. Il ragazzo, al momento, si trova detenuto nel carcere di Paiarelli, dopo che il sostituto procuratore Gianluca De Leo ne ha disposto il fermo. Resta da capire, qualora dovesse essere confermata questa versione dei fatti, come mai il San Marco camminasse armato di pistola per le strade del quartiere. L'arma che il presunto assassino avrebbe utilizzato per l'omicidio, al momento comunque non è stata rinvenuta. Grazie. Grazie.